come fare una grigliata in smith comprare delle grigliette usaggetta da portare al paro cercare di accendere la carta interna far partire un sacco di bestemmie verso i monti e protettori aspettare i pompieri che arrivano tipico abbigliamento da grigliata amici jeans mettersi sopravento a tutti così da dare fastidio a mezzo parco mettere la carne e poi aspettare essere ospitali con i vicini è invitarli a mangiare ehi tra lo meno un calcio in culo e se ne ha smetti danni la salsiccia magari guarda se devo litigare colcino azzurito vai via vai via dai ciao vi ha salvato tra poi lì te lo la birra che stai facendo? te ne ho amore per vedere come si mangia la burra dolcissima così facciamo pure l'albero nel giardino così facciamo pure l'albero nel giardino Grazie a tutti.